Musula Maschutka per Tel Aviv, autista simpatico, estimo, una parente a Bari e mi ha detto che voleva farmi sentire musica italiana, pensavo di mettere Gio Lentano invece Tiziano Ferro io amo con le mente questa canzone tutto paesaggio di urale con la teotopia accanto non manca più tanto, tutto piano piano queste sono le matiche attrezzature della teotopia guardare a destra e a sinistra adesso passiamo il treno, passiamo poi siamo a un punto, i nel cannello mi aspettano questa è una presentazione molto bella, adesso continuo a cantare